Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo qua con P Pixel Sei Indecente Oh mio dio Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video Ragazzi c'è qualche youtuber che vuole fare collaborazioni Perché almeno magari faccio qualche video senza questo disperato Non ho parole Siamo tornati su Minecraft E siamo qui per fare una custom map Che si chiama Che si chiama? Lucanton Anzi Vieni qua Rowan, mostra questo cartello Cliccate questo cartello per vedere l'ultimo video di Rowan Good luck Che sarebbe E vabbè l'ultimo video della fortuna Qual è stato? Cioè tu ti aspetti che io mi prenda in editing Mi aggiunga il link là su Ma tu sei fuori Ragazzi se lo volete lo trovate in descrizione Forse se mi ricordo di metterlo Se no prendete le vostre manine sante Andate su Google Scrivete Rowan lucky block E lo trovate Comunque Scherzi a parte Ragazzi iniziamo subito con la nostra mappa Sì E niente Iniziamo Start Allora praticamente Questa è una mappa divisa in sei parti Oggi faremo le prime Prime tre Le prime tre Dirai E niente Sono tre mappe diverse Devo cercare di non ingobirmi Perché ho sempre questo vizio A fare Invece devo stare un pochino più Perché già c'è la webcam storta E quindi se mi storco ancora io Va bene Vai andiamo Level uno dai ragazzi Level uno dropper Rilancio della morte L'ansio della morte Allora ci dobbiamo praticamente Facciamo Oh mio dio Sono quasi morta Per non essere fullare di vita No Pisa Ti odio Ti odio Te lo dico già Ti odio Io non ti faccio No sta fermo sta fermo Stai fermo Stai fermo Stai fermo No mi ha fatto morire Non ci posso fare niente Pixel E arriva come un pro Alla fine Ma cosa un pro Mi hai buttato giù tu Io ci sono arrivato Ragazzi Ma perché No Ci sono perdita Dai Falo in un colpo solo Rowell Vai vai In un colpo solo No ma che un colpo Sì spero Già Abbi pazienza Già mi ci vuole un'ora Per fare queste cose Perché io sono negata Vai puoi farcela Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Vai vai ce la fai Ce l'ho fatta ragazzi GG Batti 5 GG Batti 5 Yeah Sì dammila Però Praticamente cosa dobbiamo fare Premiamo questo pulsantino Vai Pixel Può Abbiamo finito Congratulazioni Allora abbiamo finito il livello 1 Passiamo al livello 2 Varebbe questo Passiamo al livello 2 Il livello 2 è questo Tacchete Andiamo Craft this Aspetta Io prendo il legno Aspetta Aspetta Pixel Fai fare a me Duro come il legno Dai Fai fare a me Perché questo Allora ragazzi Questo fa tipo I cricetti Una volta che la mettete nella ciotolina Lui fa Però se sta registrando Pix sta fermo Ok Allora Abbiamo craftato la crafting table Allora dobbiamo craftare la fornace Per craftare la fornace Allora ci serve La stone Per fare la stone Quindi Altro legno Altro legno Vai Prendiamo il legno Craftiamo il picconcino di legno Cioè questo praticamente è l'esamino di minecraft Che ti controlla Se sei in grado di Di sapere i craft di base Allora craftiamo il nostro piccone Allora Magari tu Prendi la pietra E vai a fare il piccone Ronchiamo E io poi prendo la pietra Per fare la fornace Ok perfetto Allora io nel frattempo Crafto il piccone Uno due tre Così tu prendi il ferro Che difficile Oh mio dio Questa stica è difficile Super difficile Comunque Che mi dite ragazzi Niente Non mi dite niente Non potete parlare È ovvio Secondo te Cinco Quanto vuoi Un otto Un po' Depressa Ah nel prossimo video Vi farò vedere un altro cappellino Potete scegliere tra Cappellino di minecraft Che mi sta paurosamente largo Tipo Penso che sia fatto per gli elefanti Perché c'è una testa Che c'entra dentro un pallone E Però era di minecraft E Sapevo che lo volevate vedere Oppure Orecchiette sexy Sì super Super carine Però le devo modificare Tipo perché c'hanno I campanellini Nelle orecchie Quindi Non sarebbero Dovrei stare con la testa Tipo Bloccata E non sarebbe carina Come cosa Allora Mettilo dentro la fornace Io Mi faccio il cappellino Di ferro Cosa ti devo dire Noi dovevamo fare Un Un orologio Cosa dobbiamo fare Una bussola Dove lo dici che dobbiamo fare la bussola Alla dottorinitio Io ovviamente non me lo sono filato Va bene Va bene Ragazzi Io mi faccio la spada Ma che serve Spada Abbiamo sbloccato Il livello 3 Ragazzi Andiamo a fare Ah guardate Siamo sulle Siamo sulle nuvole Siamo Questo è livello 4 Livello 3 In che senso siamo sulle nuvole Siamo in mezzo a una nuvola Fai te Ah vabbè Devi toglierle Le nuvole Io non li vedo Aspettate Grafica Siamo tra le nuvole E non capivo Resa delle nuvole No Fatto Siamo tra le nuvole Siamo Ok Prossimo livello Sì Io non ce la faccio Fammi fai vedere cortesemente O meglio dobbiamo Sì Tra le il pertugio Vai Si prego Fa faccela Grazie Grazie Ce l'ho fatta No Ce l'hai fatta spingendoti Sì Allora ci vengo anch'io No Grazie Riproviamo Allora Devo darmi appena appena di spinta Dai 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 Ce la posso fare Ce la posso fare Aspetta Magari mi trovo dal centro Ce la posso fare Dai ma ci sono Ma non è giusto Aspetta Ho un'idea Aspetta eh Ce la Sì ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non ci credo No Pizzini sei disonesto Dai Non si rompono i blocchi Bene Siamo arrivati in fondo Ragazzi Passiamo al prossimo livello Via Livello 3 finito Yeah Yeah Bene ragazzi Il video di oggi finisce qui E vi do appuntamento Alla prossima settimana Con il secondo e ultimo episodio Di questa custom map Vi ringrazio come sempre Per aver guardato Questo video Come sempre se volete supportare il canale Vi ricordo che potete lasciare Un mi piace Un commento Oppure condividere il video Con i vostri amici Da Rowan è tutto E arrivederci al prossimo video Ciao ciao